Salve e benvenuti in Dr. Spy. Oggi vi presentiamo una microcamera occultata in un orologio da parete. Come possiamo vedere è un classico orologio analogico, dove sul retro c'è il classico dispositivo di un orologio normale, con una batteria a stilo classico. Però all'interno c'è una microcamera audio e video 1080p, quindi full HD, con microfono unidirezionale fino a 6 metri e possibilità di registrare audio e video in continuato oppure audio e video solo col movimento quando passa qualcuno, oppure eseguire delle semplici foto. Il dispositivo ha un'autonomia stand-by con la sua sola batteria interna di 4 mesi e in funzionamento di 6 ore effettive di registrazione audio e video in full HD. Il dispositivo si attiva grazie al telecomandino in dotazione che ci permette di selezionare le varie impostazioni del prodotto. Il dispositivo all'interno ha un ingresso per slot, quindi si mette un SD card fino a 64 GB che ci dà un'ampia memoria e si può tranquillamente occultare in qualsiasi ambiente, ufficio o abitazione. Come vediamo è anche esteticamente molto carino, quindi si mimetizza tranquillamente nell'ambiente. Il dispositivo inventa presso il nostro negozio direttamente sul nostro sito. Vi ringraziamo per averci seguito, ci vediamo al prossimo video. Grazie.